Una finale che vi ha visto trionfare, tanto orgoglio perché è un torneo importante e vedere anche questi ragazzi esultare è una doppia gioia. Assolutamente, nel senso che noi l'abbiamo scoperto solo giovedì di dover partecipare, l'abbiamo fatto un po' con i giocatori della prima squadra, quindi ringrazio anche il mister Nunzio e un po' ovviamente con il nostro gruppo, abbiamo amalgamato velocemente un gruppo perché molti erano in ferie, in vacanze eccetera e ce la siamo giocata con tutti, è stata un'esperienza meravigliosa e anche un po' di fortuna ovviamente, mi ricordo un po' la Danimarca del 92 quando ha vinto da ripescata. Un bel modo per mettere in vetrina i talenti da San Michele, un settore giovanile che comunque è sempre in primo piano? Assolutamente, abbiamo lanciato tantissimi giovani in prima squadra, siamo sempre in collaborazione con mister Nunzio e penso che quest'anno abbiano esordito 15 o 16 giocatori sotto i 2002, quindi il nostro lavoro è questo, far crescere i ragazzi di Sassuolo, del nostro settore giovanile, abbiamo tutte le squadre che fanno i regionali, che sono là davanti, quindi qua si lavora benissimo e diciamo che abbiamo chiuso la stagione in migliori dei modi. Un torneo importante portato a casa e soprattutto vinto qua a Sassuolo che evoca bei ricordi anche a te? Sono molto legato a Sassuolo sicuramente perché ho passato la mia vita qua da calciatore, però sono molto contento per i ragazzi veramente, ci meritavano questa vittoria per come hanno affrontato il torneo, hanno disputato un torneo perfetto diciamo, sarebbe stato brutto non vincerlo alla fine perché anche oggi hanno dimostrato di essere squadra e giocare comunque da squadra e sono veramente felice per loro, veramente. Finale tiratissima, non poteva che concludersi ai calci di rigore? Cardiopalma, rigore di infarto, si sa che così, però ripeto sono orgoglioso di loro, veramente, glielo ho detto prima in spogliatoio, sono veramente orgoglioso di loro, se lo meritavano. Peccato per la finale, resta però comunque un cammino di tutto rispetto per i tuoi ragazzi ed è giusto rendere onore comunque al percorso che hanno fatto in questo torneo. Sì, sì, assolutamente, di fatti adesso ci siamo riuniti in campo, abbiamo detto proprio quello, ci eravamo promessi di iniziare il torneo e di tentare di vincerlo, siamo arrivati in finale, purtroppo poi i rigori non ci hanno premiato ma la partita è stata bella, tutte e due squadre che hanno giocato a viso aperto, abbiamo avuto tante occasioni però non l'abbiamo sfruttata e pazienza. Finale tiratissima, si è conclusi i rigori, quindi c'è stato anche quel pizzico di sfortuna che non vi ha aiutato? Vabbè, sai, i rigori sono un terno alla otto ma l'importante è anche seguire il percorso che abbiamo fatto, siamo andati in crescendo e questo è importante. Adesso è terminata la finestra dei tornei pasquali, cosa vi attende? Adesso ci attende la partita col Torino che vogliamo sicuramente far bene perché è l'ultima in casa e adesso l'obiettivo è riposare domani, poi riprendiamo mercoledì per preparare la partita col Toro.